Addosso aveva quasi un chilo di hashish suddiviso in panetti marchiati survive the game come il film con Bruce Willis nel quale l'attore deve sconfiggere una banda di trafficanti di droga in una remota fattoria ma è stato pedinato e controllato a lungo ed infine ieri è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Arezzo, in manette un 32enne originario di Pisa ma domiciliato ad Arezzo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nelle scorse settimane i servizi di osservazione e pedinamento per studiare abitudini e movimenti dell'uomo, ieri è scattato il controllo dopo che i poliziotti lo hanno notato a bordo di un'auto tra le vie della città assieme alla compagna. Fermato dagli agenti il 32enne è subito apparso nervoso, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con 9 panetti da 100 grammi l'uno di hashish, la droga era nascosta negli indumenti e all'interno delle calze, per lui già noto alle forze dell'ordine ma senza precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti sono così scattate le manette.